Allora, sì, diciamo che questo ordine del giorno è un ordine del giorno al quale forse non è possibile poter non votare a favore, ma detto francamente la Roma Capitale deve rispettare il piano nazionale integrato di energia e clima, il PNIEC, perché ce lo dice il governo nazionale che ha fatto questo piano e indica ai comuni di dover rispettare gli obiettivi che si è dato al 2030. Per cui diciamo che noi voteremo a favore, certo è che lo dobbiamo fare non tanto perché c'è un ordine del giorno nell'Assemblea Capitale, ma proprio perché il governo nazionale ce lo chiede, però ovviamente è talmente scontato questo ordine del giorno che, detto francamente, voteremo a favore. Grazie.